Federico, domani comincia ufficialmente la stagione 2022-2023 dell'APU All World West Udine da Curtatone contro Mantova per la prima gara di Supercoppa. Innanzitutto, come stai? Quali sono le tue prime sensazioni di questa nuova squadra? Sto bene, la squadra mi piace molto, ci stiamo trovando molto bene insieme sicuramente a livello di gruppo chiaramente in campo abbiamo iniziato da un paio di settimane quindi sappiamo che ci sono cose da migliorare però lavoriamo duro come abbiamo sempre fatto e quindi sappiamo che giorno dopo giorno miglioreremo molto. È una fase in cui le squadre hanno ancora carichi di lavoro abbastanza importanti sulle gambe sono tanti i cantieri aperti tra i quali anche Mantova dove quest'anno è arrivato un giocatore che tu conosci molto bene, Gigaia Nelize. Sì, è normale che sia inizio campionato, tutte le squadre sono in una fase di preparazione del conoscersi, di impostare un sistema quindi le variabili sono tante sicuramente la differenza la fa la preparazione e anche la mentalità, quella di affrontare la partita con determinazione cercando di coprire gli errori dei compagni che inevitabilmente in questo periodo sono normali. Per quanto riguarda Giga sono molto contento di ritrovarla, abbiamo vinto un campionato insieme a Trieste quindi sicuramente avremo modo come sempre di chiacchierare e scherzare un po' prepartita, poi ognuno penserà al suo dovere. Questa è la settimana che condurrà al primo impegno ufficiale dell'APU ma è stata anche la settimana di un grande annuncio, quello di Isaia Brisco. Non sarà a disposizione contro Mantova però tra poco indesserà la casacca bianconera. Tu già conosci questo giocatore? Sì, ho avuto modo di giocarci contro nel 2015 al Naikup Summit, non lo conosco personalmente ma a livello del valore del giocatore credo non ci siano dubbi, sono sicuro che appunto ci riuscirà ad aiutare a raggiungere il nostro obiettivo e quindi sarà anche compito nostro cercare di farlo inserire il prima possibile all'interno del gruppo.